Salve a tutti, piccolo aggiornamento, mi sono dato una tosata così al trentesimo giorno mi sembra oggi dovrebbe essere il trentunesimo giorno da quei venti giorni che erano partiti di quarantena scusate il fiato, sono appena finito la sessione di palestra, infatti andiamo insieme a verificare il peso forma se parte, stavamo sui 71, vediamo, 71.05 mi sembra, siamo rimasti uguali, anzi sono aumentato pure di 1 grammo ci staremo a vedere, domani un po' di cardio vi faccio un po' già che ci siamo ormai, naturalmente delle scorte di cibo, il tono non manca mai, abbiamo due pappette di frutta fette di susscutate in una confezione, tre kit plasmon, tre succhi da frutta, piccante e robe varie, non ci favo niente un po' di crostini, un pronti a vapore ce lo faremo come a cena, le scorte di cibo, devo durare anche un'altra settimana tra una settimana mi deve arrivare l'ordine alla macelleria, qui il frigo molto critica la situazione abbiamo citriolo, una mela, che forse mancherò pure adesso perché è ora scossa un po' di arance, un po' di tortellini, due finocchi, e ora pure questi che ci fanno stasera un po' di acocci ketchup, questa roba è del 72, tutta scaduta, il limone, non so mai cosa ci faccio passando sotto, ci sono rimasto un po' di patate surgelate, crescemo, cipolla, un po' di guanciale, un po' un primo una porzione surgelata sotto il polpettone, se non sbaglio, si, un po' di batteri finocchi, una pizza bianca surgelata ordinata, un po' di pollo, quelle blu, lo vedete, sono un po' di insalata, verde, un po' di sugueragù un po' di porzione di gnocchi, finocchi, salata, e abbiamo finito le scorte ragazzi, a parte l'acqua non ce n'è rimasto molto, abbiamo anche una scorta di pasta, diamo anche qua un po' di riso, se non sbaglio, scotti, riso rosso poi, con il riso rosso, abbiamo un po' di pane, bruno di arachidi, cartone della pizza, proteine, e sotto le docce che mi girano pure un po' la testa, carenza di zuccheri